ciao allora ho finito di fare tutto quello che ho i miei doveri di oggi e quindi si fa lo sget ready with me perchè devo fare cardio o come dice la mia amica gila michaels cardio questi capelli sono i capelli ho fatto un video prima di pranzo che però devo montare quindi siccome lo devo montare io non avrò tempo fino a giovedì pomeriggio giovedì mattina per fare una cosa del genere quindi io deduco di aver caricato prima questo video quindi questo fine settimana il video per fare i capelli così che all'inizio non sono proprio così cedono ovviamente con la giornata e a me sinceramente piacciono un po' più così allora che stanchezza niente praticamente praticamente è l'aggeggio che ho fatto vedere in un video hall come che è un cosone nero ah che è un cosone nero per per fare i ricci io già sento caldo posso levare sta felpa perchè l'ho avuta messa fino a 10 minuti fa quindi cioè fino a ora non l'ho messa 10 minuti fa perchè ho fatto delle cose ho messo una tuta della champion questa è una tuta champion i cui pantaloni e felpa i pantaloni manco mi entravano me l'aveva comprata mia madre e la felpa volendo mi entravano le braccia ma non 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 si alzava la zip proprio non si e quindi sto riesumando cose molto vecchie questa è molto vecchia allora per struccarmi comincio io a levarmi i coil di mascara come al solito tra l'altro avendo messo il è un mascara Too Faced che si chiama Glamlash 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 Glam Glam qualche cosa della Too Faced sapete io sinceramente uno dei miei metri di giudizio per un mascara è quanta facilità si ha poi nel toglierlo perchè è senza esempio si carini costano pochissimo per quello che costano sono troppo 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 buoni è tutto buono però poi a struccare non ci siamo non ci siamo per niente mentre facevo scorrere l'acqua ho bagnato la mia spugnetta che è sempre più putrida perdone ma amore che è sempre più putrida invece sono andata al negozio dell'euro l'ho vista e non l'ho presa la testa mi ha detto no vabbè poi tanto devi tornare quando non si sa ma devo tornare allora per struccarmi uso questo è il rumore del sanitary te lo dico sempre per struccarmi uso un prodotto che mi è stato inviato in realtà sono tanti prodotti infatti io li vorrei dividere perchè la signora è stata tipo gentilissima una parte come al solito tengo io una parte la regola però ne parliamo dopo anche perchè io devo fare ancora un sorteggio in giveaway siccome c'è stata tutta la storia di youtube non youtube ah io sto agitando potevo farlo vedere prima ridividiti gentilmente che c'è un video che io ho notato che rispetto agli altri ha pochissime visualizzazioni lascio il link nell'info box c'è un sorteggio di alcuni prodotti l'aila se interessa se non interessa non fa niente non necessita iscrizione non necessita proprio niente non necessita niente quindi nell'info box trovi la cosa il link la cosa allora vi faccio vedere se non questa settimana settimana prossima perchè li sto provando dei prodotti che mi ha mandato si chiama gepparomi bellissima me la sono ricordata ecco ti sei ricomposto questo è uno struccante viso alla io ve lo leggo sempre matriciana ma non è matriciana matricaria lo struccante alla matriciana buona matriciana matricaria che ha olio di camomilla e acqua di camomilla ovviamente questo lo sto tenendo per me perchè lo sto usando adesso provo a struccare gli occhi l'ho utilizzato l'altro giorno per struccare il viso e mi è piaciuto però avevo già struccato gli occhi non c'è un motivo valido per questa cosa allora prima strucco il viso me lo spruzzo oh sa allora cioè sa di tutto tranne che di camomilla sa di pane appena sfornato questo per io per adesso secondo me ho proprio non ho messo chissà che cosa in viso ho messo soltanto un po' di BB cream io sento torri di pane non sento allora nel frattempo ti spiego una cosa ti spiego ti dico una cosa sto vizio di dire vieni che ti spiego ce l'ha il mio socio dice sempre andai lì con l'accento sulla i vieni che ti spiego il mio socio giochiamo a scala 40 io non so giocare a carte completamente completamente però gioca a carte nel senso che faccio un numero sono di quelle persone che fanno un numero gioco a scala 40 con mio suocero che oltre ad avere una fortuna che secondo me certe volte con le vabbè parlo da profana ne sto spruzzando un po' con la spugnetta per gli occhi giusto per non spruzzarla proprio sopra gli occhi perdone ma sono senza occhiali voglio capire se ha struccato ah che brava già parola che stavo dicendo ah mio focere allora oltre ad avere una fortuna allucinante con la scala 40 ma anche mio padre non scherzo mio padre mi straccia mi straccia ogni tanto i miei soceri non vivono in Italia quando siamo insieme spesso devo dire ultimamente Anna Lee vieni che ti spiego vieni come loro hanno avuto due figli maschi lui con le nuore tutto mi interviene che te è troppo simpatico è simpaticissimo allora ho cominciato dei nuovi workout sono dei workout un po' diversi rispetto ai 30 giorni no ne ho cominciato uno soltanto in realtà praticamente io pensavo perché già io ho messo una foto su Instagram con il programma di una settimana e già ce lo spieghi ce lo spieghi io lì per lì ho detto sì certo prima o poi lo spiegherò ho pensato io tra me poi mi sono detta Anna Lisa ritorna in te se per i 30 giorni che era di una semplicità allucinante ancora oggi ricevi la media in media dalle 10 alle 30 non sto scherzando email tra youtube e facebook e ho difficoltà a rispondere a tutti infatti chiedo scusa certe volte rispondo in modo telegrafico ma perché 30 email al giorno a cui rispondere guardate non c'è o facebook o youtube così funziona per i 30 giorni ancora me lo spieghi i 30 giorni me li spieghi i 30 giorni e io giustamente sto lì a spiegare in modo molto telegrafico perché certi giorni ci ha mettiti nei miei panni io rispondo sempre a tutti quanti ma certi giorni arrivo a scocciarmi pure un poco sempre la stessa cosa e dico orca vacca ci ho fatto due video questo qua che si chiama body revolution questo che si chiama body revolution è un po' più complesso nel senso nella serie facciamoci del male cioè non è difficile anzi anzi forse perché io faccio pure il six weeks back che credimi è mille volte più difficile mille volte più difficile cioè io il six weeks back livello 2 sono sto finendo da sono a metà della seconda settimana e ancora lo finisco con un fiatone allucinante vabbè perché lei alla fine fa fare cardio con un fiatone allucinante è distrutta infatti lo faccio prima questo body revolution è più complesso nella spiegazione cioè nell'esecuzione però alla fine gli esercizi in sé non è che siano così complicati se proprio devo essere sincero anzi l'esatto opposto tra l'altro secondo me è pure più carino perché praticamente metto gente a contatto nel frattempo e secondo me è più carino perché ragazza allora scusatemi questo questo qua questo struccantale come mille a me piace un casino lascia la pelle morbidissima e faccio l'odore di pane continuo a sentire l'odore di pane è carino perché mi sposto così non vedi cosa sto facendo perché in sostanza cioè cioè non ci sono soltanto Natalie e l'altro non me lo ricordo dico l'altro giorno parlavo con Filippo ho detto Natalie e Priscilla Natalie è come si chiama nel 30 days mentre Priscilla è nel 6 weeks ma non è Priscilla Priscilla che ha delle cosce ragazzi allucinanti sembrano ebbano ebbano delle cosce allucinanti un corpo da paura ma poi queste qua hanno un controllo del corpo porca porca ma come fa sono male anyway dicevo ci sono più persone alle spalle è più carina tanto che certe volte fanno le battutacce e rido pure io è proprio un po' triste sta cosa proprio di bambina sola che vive l'amicizia degli altri è un po' triste però è più carina come impostazione mi piace di più e niente la prima settimana si devono alternare gli esercizi e tutti i pomeriggi solo per la prima settimana fare mezz'ora di cardio adesso vado a fare questa mezz'ora di cardio che è faticosa ma non è impossibile nel senso finalmente è cardio quindi si suda come le bestie ci si stanca però non è tutta questa gran tragedia mi dò le ore e gli orecchini ah wow ecco ecco questi me li ha regalati azzurra ma sono carini mi piacciono a morire mi piacciono a morire anche se sono grandi cioè io per esempio allora se li avessi dovuto comprare non li avrei comprati però a canale li ho visti ho detto ah che sono bellissime vabbè comunque era azzurra mi li ha regalati azzurra grazie azzurra le ho gli orecchini perché mi sudano pure le orecchie io ho messo un titolo di questi in un video ma veramente mi sudano pure le orecchie non sto scherzando mi entra il sudore nelle orecchie giuro giuro e i six weeks back lì e lo due è passato è mostruoso però sono molto contenta sono molto soddisfatta perché sono molto più forte non solo cioè si mi sento più forte pure a livello fisico eh non essere sincera però proprio più più carico ma da fare questo che è molto più complicato quando troverò la foto quando le email allora intanto devo finire la prima settimana su questo cioè non ci piove ecco la settimana prossima entro al regime con il body revolution perché dalla seconda settimana si entra al regime quando le email sui 30 giorni cominceranno a diventare meno io parlerò del body revolution e mi faccio la lavagna giuro io oggi pensavo ma come lo posso spiegare perché l'altra volta ho fatto pure lo schema ancora ricevo sempre le stesse mail veramente mi faccio una lavagna e lo spiego da lavagna non so se mi spiego no perché io perché un po' più cioè è complesso secondo me è più difficile a spiegarlo che a farlo stambaradan tanto che io pure all'inizio non è che avessi capito pure che sono un bordello di livelli ma sono tantissimi tipo la fase 1 credo ce ne siano 6 5 non me lo ricordo non me lo ricordo un bordello dai analisa preparati psicologicamente alle 60 i mail che ti arriveranno al giorno con scusa non ho capito ma io il workout 1 lo devo fare la prima settimana il workout 2 la seconda settimana e il cardio 1 lo devo fare tutti i pomeriggi per sempre della mia vita io sono pronta ai mail di questi c'è gente che mi chiede dove trovare il quarto livello dei 30 giorni e il quinto quella più bella spero che nessuno si offenda io gioco ciao analisa dove posso trovare il quinto livello del 6 weeks pack dove io credo avrei detto 16.000 volte esistono solo due livelli io cercavo il quinto livello aiutami ma mi ha detto ma questo vuol dire che ho trovato quarto e quinto e dove l'ha trovato il quarto e quinto va bene basta ciao e che le stelle siano con voi vado a sudare vado a faticare ta la 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 vabbè ma basta vado a sudare